E' vero che purtroppo non mi beccate nel migliore delle condizioni, sono raffreddatissimo, nonostante sia anche parecchio caldo, e oggi iniziamo Assassin's Creed 2, come sempre il primo episodio ancora un pochino più lungo dove ci sono tutte le missioni una dietro l'altra e finchè non hai un minuto di relax non puoi stare. Ovviamente ragazzi ho separato i due giochi con Assassin's Creed Lineage che è praticamente quasi un trailer di Assassin's Creed 2 ma più che di Assassin's Creed 2 è il trailer della triologia che verrà in realtà di il secondo capitolo e di Brotherhood che comunque inseguiremo sempre Borgia tra Venezia, Firenze e Roma. Questo gioco sapete benissimo, è inutile che ve lo dica, che è già stato portato su questo canale, le registrazioni erano pessime, la qualità ancora di meno, il montaggio lasciamo stare, non c'era un commento, una reaction, cose varie. Questa volta siamo ripartiti da capo ma con un'idea più chiara e con la voglia matta e sfrenata di arrivare fino in fondo. Ovviamente ragazzi like, iscrizione al canale e tutto quanto e noi partiamo per la volta di Firenze con Assassin's Creed 2. Il punto ragazzi è che vi ripeto non sto benissimo e partiamo appunto con Assassin's Creed 2 che c'è ancora le partite salvate di quando lo streamai su Twitch ormai più di due anni fa, quasi due anni e mezzo fa. L'overlay è rimasto lo stesso di Assassin's Creed 1 e ragazzi dovrò cancellare una partita per forza perché ci sono tre campagne, tre slot disponibili e appunto uno l'ho giocato da me. Uno è quello che ho portato su YouTube anni e anni fa e questo è quello che, 13 agosto 2021, è quello che portai su Twitch quindi io credo che si possa eliminare questo. Lo chiameremo Gabriel Paletta. Perfetto. Ok adesso ci sarà il lunghissimo intro ragazzi. E sono un prigioniero di guerra. Una guerra di cui ignoravo l'esistenza. Fra due fazioni che non immaginavo reali. I templari e gli assassini. L'animus mi ha mostrato la verità. Quello che ho visto, quello che sono stato. Mille anni di storia che mi scorrono nelle vene, riportate in vita da questa macchina. La usano, anzi mi usano per trovare qualcosa. La chiamano la mela. È un manufatto. Uno dei tanti cosiddetti... Parmo Lim, ciao. I templari li vogliono. È così che non tengono il potere. Carnia rottina plusa. Trovano un altro. Cambieranno parecchie cose. Vogliono renderci tutti schiavi. Quando mi portarono qui, all'inizio avevo paura di cosa sarebbe successo se avessi reagito. Ora, ho paura di quel che accadrà se non lo faccio. Ma non posso riuscirci da solo. E forse non dovrò farlo. Ho conosciuto una ragazza. Lucy. Steelman. E credo stia dalla mia parte. Ma adesso non c'è. Se le portate via quel bastardo, Warren Vidic e i suoi padroni templari. Non so cosa le succederà. O cosa succederà a me. So solo che devo uscire di qui. E devo farlo alla svelta. Mi chiamo Desmond Miles. E questa è la mia storia. Ok, mi rodeo un po' il fatto che... Si è un po' calato di qualità rispetto ad Assassin's Creed 1. Anche perché stiamo giocando su PlayStation, nell'edizione remaster. L'avessi giocata su PC. Dobbiamo andare. A parte qualche... A parte qualche colore un pochino più sbiadito. Nel senso, meno acceso. No, lo conosco benissimo questo posto. Benissimo lo conosco. Se non muoio. Dicevo... Che forse sarebbe stato meglio perché ci sarebbe stato il 4K, il 60fps. Invece qua mi tocca registrarlo. E poi fare una versione enhanced. Che lo porti al 4K. Che comunque ce lo porta, eh. Perché ce lo porta, però... Comunque c'è qualche lavoro in più da fare. Anyway, stendiamoci. canale c'è qualche modo. E allora. Faccio. Faccio. No! No! Di nuovo! Sì, sì, brava! Brava. Cioè, ha partorito... L'ha partorito già tutto, cioè, già va a scuola. Enorme! Oh, amore mio, mi dispiace. Ma non è che sia espertissimo di parti, però, ragazzi, cioè... L'ha partito che è già capace di intendere e di volere. Giovanni. Amore mio, va tutto bene. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Beh, combatte già. Combatti. Questa è una cosa stupidissima. Mamma mia. Sentite qua! Che razza di polmoni! Ovviamente, ha scoperto ritardato il pianto, giustamente. Ezio. Ezio, auditore da Firenze. Io questa scena non l'ho mai capita. Poteva... Cioè, è carina, perché il senso ce l'ha. Però questa cosa di muovere la mano nuda, la mano armata, per me non ha senso. Oltre al fatto che il bambino è veramente sproporzionato. Cioè, è proporzionato, però è enorme. Cioè, ripeto, è più grande da piccolo che da adulto. Stiamo davvero uscendo di qui. Eh, mi sa, sai. L'abstergua degli arredatori con le contropalle, eh. Non la posso cogliere, che peccato. Sta vicino. Ehi, non siete autorizzati a stare qui. Aprite la porta! Chiamo rinforzi. Chiamali, chiamali, vai. C'è l'ala di ricerca. Ripeto, c'è stata una violazione... Pareti di vetro. Fico. Eccole lì! Non fateli scappare! Cazzine, non schippabili, ma... Ma ci importa poco, perché tanto non avremmo schippate comunque. Oh, cazzo! Certo, potresti anche combattere tu, Desmond, eh. Cioè, se è un uomo, fatti avanti, cazzo. Ma guarda che posto! Galanteria, si chiama. Penso ci sia da prendere l'ascensore, sì. Mi danno fastidio questi 30 fps, che in realtà ci porteremo avanti per un bel po'. Penso fino a Cindy, che ci porteremo avanti i 30 fps. Che palle. Anzi, forse credo che giusto Assassin's Creed 3 sia sui 60. Poi da Origins ci saranno i 60 fissi, però... Che brutto. Cioè, tra le mani è una macchina potentissima e non la sfrutti. Dobbiamo raggiungere l'ascensore all'altro lato della sala. Stammi dietro, ma occhio a quelli della sicurezza. Sembra una cosa infattibile, ma in realtà ragazzi è una cazzata. Diciamo, bisogna evitare di correre di vicino? Ma stai zitto anche te, no? Parli, ti sento. Ma cioè, ti guida lei quindi, buona. Eh, l'hanno spesa i risoldi, va? Che cazzo. Appunto, fatto. Cazzo. Pensavo che questa scheda funzionasse. Deve essere su un altro sistema e non ho il codice. Aspetta. Wow. 2, 3, 4, 7? 2, 3, 7, 4, scusate. Ho processato vicino, eh. Non lo so. Andiamo. Auditore. Credo che ci siamo sbagliati. Ecco perché dobbiamo uscire di qui. Vedi che i templari sono solo una parte del problema. Che vuoi dire? Te lo spiego una volta. Ma se è bello. Arrivati dove? Asomigli molto a mio compagno di classe degli elementari. Uguale, sei? Era siciliano, lui. Io non sono siciliano, eh. Uh. Beh. Pende a pugni l'aria. Bravo. Bravo. Colpitevi tra di voi. Fatto il domino. Ma ce la fai a stenderne uno? Uh. Oh no. Che peccato. Bello nelle palle. Toh. A posto. Vabbè, morire qui è impossibile, dai. Venta. Scherzi. È per la tua incolumità. Uffa. Ci siamo quasi. Uff. Grazie davvero. Fantastico. Essere ficcato in un bagagliaio è sballottato in giro. Di qua. Allora. Beh, se no muori. Dimmi tu quale preferisci. Così poi troviamo un accordo. Ti pareva. Ci serve il tuo aiuto. Per cosa? Un'altra caccia al tesoro nel passato. Non sale, peccato. L'abstergo vuole sostituire la sua mela dell'Eden. La mappa che hai trovato ne è la prova. Gli altri assassini faranno il possibile. Dovunque sia possibile. Allora, in questo punto lei se la prende con estrema calma. È una cosa che non sopporto. I templari sono troppo pochi. Madonna. Cioè, io capisco tutto. Cioè, che palle. Comunque, il gioco al 100% senza raccogliere nessuno scrigno dura più o meno 20 ore. Quindi voglio raccogliere anche tutti gli scrigni e arrivare a un 100% dovremmo stare sulle 25 massimo, massimo, massimo 30 ore. Ma sicuramente faremo anche di meno. Ezio Greggio. Se riesci a seguire le sue tracce, imparerai tutto da lui. Proprio come ha fatto lui. Anni di addestramento assorbiti in pochi giorni. Mi hai tirato fuori dall'abstergo e portato qui solo per farmi diventare un assassino. Dovresti esserlo già. Ma dovrei aspettare. Fidati, ok? Va bene, ci sto. Dimmi cosa ti serve. Davvero? 30 centimetri di cazzo. Pensavo che ti avrei fatta felice. Mentre guidavo ho passato tutto il tempo a pensare a come convincerti. Guarda. A farmi dare randello, vero? Per passare quei bastardi, sono pronto, motivato e deciso. Grazie. L'abbraccio della concordia. Ah beh, questo era bellissimo. Ah, questo è il nerd. Ce l'hai fatta? Dio, quanto tempo. Sette anni, roba da non credere. Davvero? Rebecca e Sean, sì. Ah, questo deve essere il famigerato soggetto 17. Desmond Miles, giusto? Voi chi siete? Scusa, che maleducato. Sono Sean Hastings. E lei è Rebecca Crane. Molto piacere, Desmond. Bene, piacevolissima conversazione. Ma se non vi spiace, sarà meglio mettersi subito al lavoro. In questi giorni, il tempo è prezioso. Abbiamo già preparato tutto, Lucy. Quando vuoi possiamo procedere. Tieni, ti ho portato qualcosa. Un regalino di commiato dall'abstergo. Wow! Ma è fantastico. Con i loro dati, le cose andranno molto più veloci. Mi butto sul cadice d'inserimento. Ok, ovviamente non ci si può sdraiare ancora. Ma ce la parlare con tutti quanti. Esatto. Ciao, Desmond. Come va? Mi stavo chiedendo qual è il tuo ruolo qui. Fare pompini. Faccio in modo che funzioni addovede. Baby, vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che Baby è due volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia all'abstergo. I Templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. Addirittura. Quindi se fanno i pompini tu li fai meglio. Che iniziamo. Devo fare ancora qualche piccola modifica. Ciao, senti. Volevo solamente dirti grazie. E che mi dispiace. Per cosa? Beh, sai, per prima. Lì, all'abstergo. E che, insomma... Non ero pronto. Tranquillo. No. Dopo quello che ho passato. Sapere che i Templari esistono ancora. Quello che progettano. Ciò che hai fatto è fatto. Adesso sei qui, ed è quello che conta. Con lei siamo a posto. Manca lui. Quello molto simpatico, sì, lui. Ma che serve sta roba? Questa roba, Desmond... Questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare a puttane. Lavorarci richiede una grande concentrazione, quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare agli indovinelli. Sean ha il compito di mantenere i nostri archivi, tipo una biblioteca digitale. Starà accanto a me mentre sei nell'Animus, quindi... Se ti imbatti in qualcosa di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera... Creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni. Sì, non è solo un database, però... Fornisco anche supporto tattico agli altri assassini. Sai, Desmond, quelli che stanno là fuori a operare davvero sul campo, a rischiare la vita e robette del genere. Ok, direi che si possa andare nell'Animus. I think. Appunto, pronti per andare nell'Animus. Grazie. Grazie. Grazie.